Io, un uomo così, che cerca il contatto con quella, chiama, non lo voglio, deve cercare solo me. Perché tu lo cerchi lui? Se ho dall'altra parte. Ah, se hai! Però Cristiano non è così. Così funziona, se hai. Serena? Vorresti negare anche che quando io ti sono venuta a prendere in hotel per andare allo stadio olimpico, tu non mi accarezzavi tutto il tempo e mi infilavi le mani nelle maniche della maglietta? Perché come avete potuto vedere dal video postato sui social, non so se avete notato, avevo... Poi è bello che io devo stare... No, è bello che io devo stare. No, lei ha detto che infilavi la mano sotto la maglietta. No, 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 non me ne infilava in parte no, assolutamente no. No, sotto la manica. Però cercavi il contatto, scusa, mi stavo guidando, no, perché se no sembro io che... Ma scusa, ma come faccio a capire? Hai detto che devo essere me stessa? Sono me stessa e ti dico quello che penso. Ho capito, ma se decontestualizzi una situazione, cioè non c'è il bracciolo... Eh, mi sono messo così... Dai Cristiano, ma dai, senti, sento le tue unghie sul... No, Serena, Serena, così come cercavo il contatto, se volevo ti baciavo. Ma che cosa ho sentito? Non è che ti ho rispinto, in macchina ti ho rispinto. Perdonami, ma per... Per rispingerti... Mi hai rispinto? Eh, certi cose non le voglio dire... Mi hai rispinto? Sì, ti ho rispinto in macchina, Serena. Vabbè, mi ha... Non è sagerare che... Ho le lesioni... Sì, ti ho rispinto.